...dei migliori, Ray Wiseass avanti a Rex Trolli e K, l'errore di Ubi Capra che viene squalificata, piegata, anche Ray Wiseass a tabellone, la sgambatura era stata delle migliori, avevamo anche il segnalato sul web, Rambla di Epple che sta attaccando Rex Trolli e K, anche Ray Vap va a tabellone, dopo il quarto iniziale in 30, Rex Trolli e K in vantaggio, seconda posizione Rambla di Epple, in terza Rosario Rosso, in quarta risacca di Fumo, poi Raissa Boll, quindi Riascita, ok, avanti a Rose and Duvut, a cabini quindi a Robert Tazzacca in coda, seconda e penultima piegata, cavallo di Pinediana, non ci sono varie azioni, con all'avanguardia sempre Rex Trolli e K, 32 Nettino, secondo quarto, sempre in vantaggio, Rex Trolli e K, sta migliorando Rizacca di Fumo, si arriva a completare il giro in uno 17.5, tanto migliora anche Robert Tazzacca, che passa in quarta posizione, all'avanguardia Rex Trolli e K, l'errore intanto di Rizacca di Fumo, l'errore anche di Rambla di Epple, così, seconda Roberto Tazzacca sui nasciti, ok, ma il vantaggio della Lidia ne sembra incormabile, dopo la terza posizione in 32, addirittura Rex Trolli e K prova l'allungo, Roberto Tazzacca che si prodiga al suo inseguimento, va mancato solo più 100 metri, posso mai essere 100 metri ai momenti per Roberto Tazzacca, Roberto Tazzacca, Tazzacca, davanti a Rex Trolli e K, rinascita, ok, ha usato questo HBD e...